Scusi, scusi un momento, mi scusi sa, purtroppo ho una gomma bucata, le posso chiedere un passaggio? Per andare a iniziare tanto basta avere la carta verde, perdoni la macchina ma insomma, sa, consuma poco. E poi se una delle cose belle da fare vedere, che male c'è, non le pare? Attento! Ma cosa fa? Volevo offrire un aperitivo. Senta, mi chiama un taxi per favore? Grazie del passaggio. Ciao. Ciao. Oh, mi dispiace tanto. Venga nella mia cabina, aiuterò a pulirsi. Ecco, entriamo qui. Eccomi. Che fa, chiude? Appoggia tutto, non ti preoccupare. No, no, metto qui, poi ricupera dopo. Facciamo l'amore subito, come in nove settimane e mezzo, sotto la doccia. La doccia. Donna, sai che c'ho la barca in rada, andiamo? Sta arrivando mio marito, rivestiti. Come? Stavo dando una mano al dottor Carbone, ha avuto un piccolo incidente. La mano? Prego, mi scusi, è una presentazione un po' fuori dall'ordinario. Le presento mio marito, il dottor Carbone. E da allora la mia vita è diventata un infermo. Eh, certo. Con tutti i problemi che la situazione crea. Con tutti i problemi. Mi senti? Eh, sì, 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 la sento. Perché mi guarda così? Dai, adesso pensiamo un po' a noi due. Fa un caldo terribile. Ho voglia di rinfrescarmi un po'. Tu no? Sì. A te non va di fare un bagno? Ma quanto sei buffo. Dora, cara, sei lì? C'è il mio marito. Dai, dì, ammai. Come mai il bagno a quest'ora? Eh, faceva troppo caldo. Vai, vai, ti chiamo io. Guido Baldo, amore. Grazie. Ciao. Grazie.